La sera di San Valentino, non perdere la puntata di Box Pinelli, tutta dedicata alla sinergia tra luce e natura e ai benefici che un approccio ispirato ai due elementi, che da sempre apportano benefici agli esseri umani e alla loro salute, sia di grande aiuto anche ai nostri occhi. Il dottor Pinelli presenterà le procedure che convogliano delicatamente i fotoni sugli occhi per prendersi cura dei nostri difetti visivi e di alcune patologie corneali e retiniche che rendono difficile una buona visione. Ed è il supporto che viene ancora dalla natura, grazie alle piante che hanno dato prova di efficacia, riunite in un nutraceutico di sostanze purissime. Venerdì 14 febbraio alle ore 21, su Telecolor LCN 18 in Lombardia, e TV Rete 7 LCN 10 in Emilia-Romagna, e TV Marche LCN 12 nelle Marche, Telecolor LCN 10 a Trento, e TV Umbria LCN 14 in Umbria, e TV Friuli LCN 16 in Friuli, e TV Liguria LCN 12 in Liguria, 19 LCN 19 a Trento Alto Adige, e Canale Nazionale Salute e Natura LCN 82. A presto!